Bravo Conte, così facendo ci butti sotto un ponte. È uno dei lenzuali affissi davanti alle porte della Quinta, ristorante fanese aperto nel lontano 1964. Un locale storico della città che oggi, come tanti altri, sta affrontando un momento difficile, da cui il messaggio di disperazione è lasciato all'ingresso sul lungomare di Sassonia. E poco distante davanti a un cancellino dello stesso locale c'è il secondo striscione, con su scritto la disoccupazione involontaria è il male più terribile, soprattutto se causato dalla disorganizzazione politica. Anche noi lavoriamo in sicurezza. I lenzuali sono appesi da venerdì sera in concomitanza con l'iniziativa promossa da Ristor Italia. Decine gli imprenditori che hanno lasciato le luci accese in segno di protesta. Ma i titolari di questo locale hanno voluto fare di più, scrivendo alcune frasi per esprimere il loro grido di dolore. Perché secondo noi è una situazione ingiusta, ci sono fatte delle regole che non sono eque e non siamo una categoria più a rischio di tante altre, quindi protestiamo per questa cosa qua. Se vogliamo mantenere le distanze è giusto allora che tutti stiano a casa, uscire solo per le necessità, che le necessità alla fine si riducono nelle dita di una mano. Quindi a noi questo ci fa arrabbiare e ci umilia soprattutto perché veniamo penalizzati noi, noi soprattutto perché noi siamo una famiglia che lavora solo con questa attività. Quindi non è una famiglia costituita da un marito, moglie e figli che fanno altri mestieri. Ma a parte la nostra situazione personale, vengono penalizzati i nostri dipendenti che ne abbiamo 15, vengono penalizzati i fornitori, i marinai che ci portano il pesce e anche i nostri clienti che magari hanno la distanza di sicurezza, hanno il piacere di venire a mangiare in sicurezza e invece magari devono andare a far spesa, fare file e tutto il resto. All'inizio della pandemia, prosegue Barbara, ci hanno costretti ad indicare su dei cartelli la capienza massima delle sale. Qui oggi ci sono 95 posti nonostante i grandi ambienti e a noi, precisa, andrebbe bene accogliere anche soltanto 15 commensali a distanza di 3-4 metri pur di lavorare. Perché l'asporto non risolve la situazione e quello che perdiamo adesso lo perdiamo per sempre. Rispettiamo tutti i malati e chi soffre, aggiunge Marco Renga. Quello che chiediamo sono gli aiuti e la possibilità di riaprire in tutta sicurezza. Ci dispiace anche il discorso di poter magari dover fare dei licenziamenti, quindi noi non vogliamo andare contro la legge, non vogliamo fare proteste assurde, tutto si può fare, tutto si può fare, anche perché poi aprono centri commerciali, la gente è tutta in giro, ammassata e qua invece siamo contingentati, prendiamo il numero, prendiamo i nomi, la gente sta a sedere, non va in giro. Si fa molta difficoltà ad andare avanti, si fa molta difficoltà ad andare avanti perché poi gli aiuti sono pochi, è difficile anche riceverli, quindi è una brutta situazione. Ecco, quello che voglio far capire alla gente è che non è una lamentela del fatto che siamo i poverini. Noi chiediamo soltanto di avere il nostro diritto al lavoro per poter salvaguardare noi, il nostro personale, perché poi dopo non piangiamo del fatto che molta gente starà a casa, molta gente fallirà, allora poi mi dovranno spiegare chi paga pensioni, chi paga anche stipendi, anche agli enti pubblici. Cioè è una cosa che riguarda noi oggi, noi come palestre, teatri e anche voglio fare un saluto ai miei amici, anche per quanto riguarda le scuole di ballo, che ora chiaramente, vista adesso la pandemia, sembra assurdo, però sono tutte cose che comunque aiutano anche alla gente a stare meglio e tutto quanto, però vogliamo solo vivere con più serenità. Ecco, si racchiude tutto in questo, maggior serenità nel rispetto di tutti, di chi sta male, e nel rispetto di tutta questa situazione.